Buonasera, buonasera ragazzi e benvenuti in questo episodio di Crypto Salad. Io sono Federico, oggi è lunedì 14 gennaio 2019. Nei video di oggi guardiamo insieme quanto sta accadendo al prezzo di Bitcoin, in particolare nelle ultime 24 ore, guardando il grafico, perché ne sono successe delle belle tra ieri e oggi. Per cui ragazzi non dimenticate di lasciare un mi piace al video, commentate se avete domande, iscrivetevi se non siete iscritti e cliccate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Allora ragazzi nel video di ieri, se l'avete seguito, commentavamo questo momento di lateralizzazione di Bitcoin intorno al livello prezzi dei 3650 dollari all'incirca. E vedevamo che Bitcoin stava lateralizzando a partire dal 10 di gennaio fino alla giornata di ieri che era il 13 di gennaio. E quindi ci aspettavamo, a causa di questa stasi del prezzo e soprattutto ai volumi di scambi in netto declino, ci aspettavamo un forte movimento di volatilità nelle successive ore. Ed è praticamente quello che poi è successo ieri, precisamente alle 17. Vedete che c'è stata questa candela rossa con il prezzo di Bitcoin che è sceso del precisamente 2,91% nell'arco di un'ora con dei volumi, come vedete qua, in rialzo. Quindi ci aspettavamo questo movimento di volatilità che è arrivato verso il basso. Dopodiché Bitcoin tra ieri sera e oggi ha consolidato, ormai c'è sempre questo movimento con della volatilità alternata a della staticità, Bitcoin ha consolidato tra ieri e oggi intorno ai 3520 dollari più o meno. E molti si aspettavano, o comunque ci si aspettava, che Bitcoin continuasse nel suo trend ribassista perché vedete che abbiamo avuto consolidamento e discesa, consolidamento e discesa, consolidamento e discesa e quindi ci aspettavamo un ulteriore consolidamento con un'ulteriore discesa. Queste sono classiche formazioni che indicano una continuazione del trend. Si chiamano anche bear flag o comunque bandiere ribassiste. bandiere perché hanno proprio la forma di una cosiddetta bandiera puntata verso il basso. Tuttavia Bitcoin oggi intorno alle 4-5 del pomeriggio ci ha stupito perché c'è stato questo cosiddetto flash pump per cui un movimento rialzista molto intenso e molto veloce accompagnato da volumi a rialzo molto intensi. E quindi Bitcoin è ritornato dai 3530 dollari e ritornato a livello prezzi dei 3680 dollari prezzo a cui si trova, in cui si trova in questo momento. E come vedete questo livello prezzi dei 3680 dollari corrisponde storicamente a punti di intensa price action in passato per cui qua vediamo che ci siamo fermati sui 3680. Piuttosto che qui abbiamo trovato supporto piuttosto che qui abbiamo trovato supporto diverse volte e qui anche supporto e resistenza in diverse occasioni. Quindi questa zona in cui Bitcoin si è fermato è una zona dove c'è stata storicamente forte price action e quindi è probabile in questo momento che il prezzo vada a consolidarsi in questa zona per poi eventualmente formare una bull flag e ripartire verso l'alto. Quello che mi stupisce ultimamente riguardo al prezzo di Bitcoin è che vediamo continuamente crearsi le stesse formazioni quindi momenti di staticità alternati a momenti di intensa volatilità. Formazioni di questo tipo fanno pensare che si tratti in realtà di vere e proprie manipolazioni per cui account che hanno tantissimi Bitcoin per cui potrebbe essere account di grandi investitori balene piuttosto che exchange hanno sostanzialmente un interesse ovviamente a manipolare il prezzo di Bitcoin a rialzo o a ribasso per praticamente andare a liquidare quelle che sono le posizioni o short o long e quindi andandole a liquidare facendole dei profitti molto 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 ingenti. Per esempio vedete che con il movimento di oggi con Bitcoin che ha recuperato nell'arco di un'ora all'incirca il 3,64% se poi andiamo a vedere il movimento completo più o meno dal fondo fino alla punta sono all'incirca 5,87% vedete che questo qua è il grafico che rappresenta quelli che sono gli short quindi la quantità di persone che shortano Bitcoin e quindi pensano che Bitcoin vada a scendere come vedete in corrispondenza di questo pump del prezzo di Bitcoin il numero di short si è ridotto abbastanza drasticamente questo vuol dire che molte posizioni di persone che avevano aperto posizioni short sono state quindi liquidate a causa di questo rialzo poi successivamente vediamo che il numero di posizioni short è tornato a salire e quindi probabilmente in questo momento la maggior parte degli investitori comunque dopo essere stati liquidati ha riaperto posizioni short perché ritiene in questo momento che Bitcoin possa continuare a eventualmente lateralizzare quindi è salito a lateralizzare e poi eventualmente scendere di nuovo in questo livello prezzi ovviamente ragazzi nulla di quello che vi dico sono consigli di investimento nei consigli finanziari vi suggerisco sempre di fare le vostre ricerche si tratta ovviamente di operazioni sempre molto rischiose un elemento che mi fa pensare che forse dopo una lateralizzazione potremmo tornare a scendere in questo momento in questo momento è l'RSI stocastico che è in una zona di sovracomprato quindi in questo momento il momentum verso l'alto potrebbe essersi esaurito e quindi potremmo vedere lateralizzazione con una discesa di nuovo verso il basso ragazzi per oggi è tutto spero che sia stato chiaro oggi è una puntata un po' breve e concisa io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e per il vostro supporto molto apprezzate i vostri commenti e le vostre interrogazioni ci vediamo al prossimo video ciao